Andiamo tranquilli, tra tre giorni andate sulla mia bacheca, tra tre giorni, abbiate pazienza di tre giorni e poi però Floris deve chiedere scusa. Informate ben, però voi mi avete detto, io ho parlato con Crimi, no? Crimi mi ha detto, ah, ma io non ce l'ho contente, per l'amor di Dio, però quando tu, come fai a dire questo, scusami, la diaria, la diaria è quel che tu spenti stanno in Roma, io sono di Roma, quindi non ho delle spese che avrà una persona, magari io sono singolo, dite di con tre figli e che viene da Trapani, quindi magari giustamente si prende una casa che magari io non ho bisogno di questo alloggio, per cui dire e comunicare come ha fatto Ballarò, questa è quello che ferneranno tutti i deputati. Non sono una differenza, è anche tendenziosa, questa è la logica, a me entreranno 18 mila euro e io ne restituisco allo Stato 13 mila, il mio perché io sono di Roma, per cui non ho delle spese che ha un'altra persona, chiaramente, il buon senso, e anziché l'informazione pubblica, anziché dire 160 deputati rinunciano a questo, restituiscono a Stato questo, hanno fatto passare l'idea che i deputati, in pratica, i deputati 5 stelle prendono come gli altri, è brutto, però se vuoi dire che ufficialmente, ufficialmente però, voi avete scritto, cioè questo è proprio scritto dal Statuto, che rinunciavate alla metà dei 5 mila euro e quindi me ne toccavano 2 mila e 5, e per il resto, più, e facciamo l'informazione, più, e non dovevate rinunciare, però anche l'assegno di fine mandato perché non lo dici? Esatto, l'assegno di fine mandato è un altro discorso, però non è un altro discorso, non è un altro discorso, sono soldi, poi avete detto dal vostro Statuto, quello che voi avete firmato, che ne avete preso un peccino, occhio che se dici un'altra cosa, te lo dico, fai una pericura giornalistica, ho detto, voi avete detto che dal Statuto, tutto quello che avete firmato, è rinunciavate alla metà dei 5 mila euro, più, come la metà dei 10, ricavate, no, più, anche l'assegno di fine mandato, c'è scritto la Statuto, no, l'assegno è più l'assegno di fine mandato, e te lo devi, ma sai da dove, ma sai da dove, ma c'entra adesso il fine mandato, scusami, ma parliamo per 5 anni, ma scusate ragazzi, ogni mese io ti sto parlando, ma è in forma di cazzarola, è una cosa fondamentale, ma da dove viene l'assegno di fine mandato, da dove vengono questi soldi, ma ragionaci, vengono presi dall'indennità, ascoltami un attimo, vengono presi dall'indennità i soldi dell'assegno di fine mandato, quindi da quei 10.400 euro, e vengono messi in un fondo, questo fondo che a termine della legislatura sono decine di migliaia di euro, anche questo rinunciamo, e quando al termine di questa legislatura che durerà un anno, due anni, cinque anni, tre anni, non lo sappiamo, tutti i deputati del Movimento 5 Stelle e senatori rinunceranno a quel fondo, anche questo l'informazione corretta va dentro, non va bene così, complimenti che voi date l'assegno di fine mandato, questa è l'informazione corretta. Non c'è tanto da applaudire, ma non c'è tanto da applaudire, che è la prima volta nella storia d'Italia che qualcuno riscapisce, qualcosa dei cittadini invece di... Allora se voi volete parlare, io parlo una cosa, voi ne parlate di un'altra, io sto dicendo, 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 impariamo tutti con lui, davanti, no? Per cui voglio dire, io ripercorro questo percorso che ho fatto con lui e ti dico, voi avete detto che rinunciavate alla metà di 5.000 euro e che quindi intrascavate invece che 5.000, più l'assegno di fine mandato, e più rinunciavate all'assegno di fine mandato. Grazie, ora l'informazione corretta. Dopodiché tutto il resto dei rimborsi, 3.500 euro di diaria, 3.800 euro per i collaboratori. E dovete quindi contare. Poi a un certo punto è subentato un altro momento, no? In cui si diceva, i 3.500 euro non bastano, no? E li potete tenere. Quale momento? No, 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 noi abbiamo... Il documento è sempre stato detto, sempre stato detto. Il codice di comportamento è sempre lo stesso. Quel codice è sempre lo stesso, ribadiamo, ma questo i cittadini non lo sanno tutti e sono sul discorso, innanzitutto questa stessa attenzione, grazie, quindi siamo meritevoli, ottimo, quindi questa è passata, va bene, e la stessa attenzione va fatta come sempre a tutti gli altri deputati, la stessa attenzione, questa stessa intervista sacrosanta che tu fai, che sei giornalista e io ti rispetto, così anche puntigliosa come tu devi essere, va fatta con tutti gli altri deputati, che hanno parlato di tagli di costi della politica, sulla diaria, scusami c'è anche da dire che anche molti altri partiti come per esempio Sene e PD, una parte del loro introi, cioè di 5 mila euro, lo destinavano a un partito, ma perché non gli bastano rimborsi del dito, ma poi perché facciamo? Poi sei sicura che succede ancora questo? Hai fatto un'inchiesta distruggiato come il partito, sembra di sì, tu hai le prove concrete che i deputati di Selle del Partito Democratico rinunciano a questa parte e la danno al partito, nelle porti, perché dovrei pensare che quello che dicono loro non è meno vale, perché noi ti pubblichiamo quello che pubblichiamo, loro tira fuori però giustamente il tuo lavoro da giornalista, tu stai andando in giro dai deputati del PD dicendo è vero che state dando questi partiti, non l'ho mai visto questo servizio a Pallarò, non l'ho mai visto? Sempre l'hanno fatto così, questa non è una cosa che... Quindi loro la metà, io ricordo che all'epoca del Partito Comunista faceva questo. Comunista anche il PD, anche Selt, addirittura c'è un senatore di Selt che mi ha detto che lui dà 3.500 euro, quindi poi voglio dire è al buon cuore, no? Esempi virtuosi, ancora di più virtuosi, ci sono dappertutto, nessuno mette più. No, appunto, ci può essere pure uno del 5 Stelle. Allora, per concludere questo discorso della diarica, davvero non si parla della legge anticorruzione e conflitti interessi ma parliamo di questa, questo è veramente grave in Italia. Cioè non si parla del fatto che il PD e il PDL abbiano inciusciato e non fanno una legge sul conflitti interessi dopo che sono 20 anni e la chiediamo, ma si viene a fare il conto a me che io già rinuncio al 2.500, ma siamo alla polia, ma dato che siamo alla polia proseguiamo su questa strada. Personalmente, io essendo di Roma ti posso dire personalmente, noi rendiconteremo le nostre spese, io e Carla che siamo di Roma non abbiamo il buonsenso, non abbiamo delle spese che hanno delle altre persone. Ci sono deputati del 5 Stelle, due ragazzi di Genova, Matteo, loro, che hanno preso un appartamento in tre e pagano 500 euro di affitto a testa, nonostante lo Stato gli dia 3.000 e fa 6 euro di diare, questo lo fanno per restituire i quattrini allo Stato. Questi esempi sono spavolosi. Alessandro, io per esempio, Campanella, per esempio Campanella ha detto lui non ce lo fa. E lui non c'è perché evidentemente ha dei figli, ha delle altre spese, magari ha un mutuo a casa da pagare. È evidente che ogni situazione sia buonsenso. Io sono single, ho 34 anni. Non mettere a confronto, scusa di voi, però... Beh, ultimamente lo vedo pompe, lo metto. Non mi manca. Se non lo vedi, non ti manca, quello è un problema tuo, però non puoi dire che io non faccio il lavoro. Allora, mi mandi il video, no, no, però questa frase che tu non faccio il lavoro, io non ho messo il lavoro, io non ho messo il lavoro, io ti ho detto che mi rispetto. No, no, che io non faccio il mio lavoro, mi hai detto che sei andata a fare questa cosa. Ammetti che non c'è la stessa, tra virgolette, anche positiva, perché per me è morbosità, fammi finire la domanda. Ammetti che non c'è questa stessa morbosità con il PDL che c'è con noi, dimmi sì. Non è che non c'è la stessa morbosità, è che poi quando uno... Sì, non c'è. Ah, e perché ci dovrebbe essere o no? Perché non c'è, probabilmente. Perché noi siamo più bravi. Perché quando uno parte da un dire, faccio così... Posso rilasciare, posso dire, io sono deputato, posso dire anche io come faccio, perché lo state... Insomma, quello che mi riguarda lo dichiaro apertamente, rendi conterò tutto, anche fino all'ultimo spicciolo. Prenderò 5.000 euro lordi con il calcolo ovviamente fiscale poi da nettizzare, rinuncerò all'assegno di fine mandato come da firma al codice di comportamento e rendi conterò tutte le spese sostenute che probabilmente saranno assai inferiori, ma di molto inferiori rispetto a quanto percepiscono i parlamentari, anche perché io ho preso autobus, adesso sono in bicicletta, non ho fatto cena fuori perché non mangio più di tanto, non bevo quasi. Quindi proprio per me... Quindi spese minimale rendi contate fino all'ultimo spicciolo e quindi il resto lo resituirò, come ho sempre detto e come farò, in linea con quanto firmato dal codice di comportamento. Ciò detto, mi aspetto che poiché gli altri parlano di taglia ai costi della politica, facciano tutti e 1.630 diputati, facciano lo stesso ragionamento che faccio io adesso. Se fanno questo, hanno un grande gesto nei confronti dell'ora elettorale, come lo faccio io adesso. Un mese e mezzo, ragazzi vi dico bene così ne approfitte e poi corro, dobbiamo andare a lavorare. Allora, mi è arrivato lo stipendio, anche a Carla, 7700 euro di indemnità, un mese e mezzo perché ci pagano dal 15 marzo, quindi 16 trentesimi di marzo più tutto il mese di aprile, per questo ti dico queste cifre, più 11.000 e passa di diari e compagnie a me. Quindi mi sono entrati l'altro giorno 18.000 euro, mia madre stava così, 18.000 euro. Una busta paga è 18.000 euro. Io ho due anni in Latinoamérica, viaggiando, ho speso 7.000 euro in due anni e ora arrivano 18.000 euro per un mese e mezzo. La tentazione di tenerseli e passare al gruppo misto è forte, eh? No, è la verità! È la verità! C'è la tentazione, perché l'essere umano è così, ma il controllo popolare che voi fate intorno a noi, il potere, la vostra partecipazione, anche il lavoro che fa la stampa, che fa bene, io non mi lamento di loro, basta che lo facciano, basta che abbiano lo stesso atteggiamento con tutti gli altri, perché se hanno questo atteggiamento con noi, bravi, siete voi controllori, complimenti, applausi, ma lo dovete fare con tutti gli altri, con tutti gli altri, perché la giustizia è questa, ma dovete dire agli altri che hanno, dovete dire a Berlusconi a Dio, Berlusconi, dai in mano, vieni qua, ma tu hai detto che vuoi abolire il finanziamento pubblico e partiti, lo fai sì o no? In quanto lo fai? Perché non glielo dite? Perché ogni volta che andate a lui gli date il microfono e lasciate parlare? Perché non ce l'ho assolutamente, ce l'ho con i giornalisti, come dire? A me giustamente, noi siamo qua in piazza, noi in piazza qua non ci viene, quindi quello è il problema grande, quindi la vostra attenzione è fondamentale, il ruolo della stampa è fondamentale, a patto che abbiate lo stesso atteggiamento con tutti e non con 109 ragazze che sono appena entrate. Comunque di questi 18.000 euro che mi sono entrati, io come ho sempre detto in campagna interale terrò 5.000 euro l'ordi al mese, che per me, che non ho altre entrate, non ho immobili, sono 2.990 euro netti, l'abbiamo calcolati con il lavoro, quindi 2.990 netti più 1.500 del mese, della metà di me, sono circa 4.500, a questo delle spese che ho avuto di viare e accompagnabelli ho speso circa per un mese e mezzo 390 euro, quindi mi sono entrati 18.000 euro e restituisco allo Stato più di 13.000 euro. Bravo, questi sono i fatti, questi sono i fatti, questo mese e mezzo, non è affatto scorretto, è la verità. No, perché tu non restituisci 13.000 euro, perché una parte la devi dare per collaboratori. Invece sì, perché questo mese e mezzo l'ho preso ai collaboratori, per cui questo mese e mezzo io restituisco 13.000 euro, dal prossimo mese che ho assunto due collaboratori, Marco Mancini e Selena Caputo, Marco Mancini prenderà 1.000 euro e Selena Caputo 1.400 euro per la trasparenza, questi soldi io non li restituisco perché li spendo per i collaboratori, però l'informazione che ho dato è per questo mese e mezzo e non è scorretto dire quello, e tu mi hai detto che ho detto una cosa, se ne scordi. I soldi di collaboratori è una verità, ma io ho detto quanto restituisci adesso, ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Calmi! Calmi! Non è facile per lei, zitti, le domande sono legittime, ha fatto che le faccia a tutti gli altri, mafiosica, morrissima, perché sarebbe bello. Non vi arrabbiate, faccia il domande. Per esempio invece, rimborsi telefonici e rimborsi, l'altro rimborsi. Rimborsi telefonici, 3.000 euro l'anno circa. Allora, per esempio io che sto in commissione esteri, magari spenderò di più di uno in commissione giustizia perché dovrò chiamare l'ambasciatore a Bagdad, esempio. Fatto sta che noi ci siamo fatti un bel contratto telefonico, si dovrebbero fare tutti i parlamentari, e io spendo il contratto telefonico, ho preso il Deluxe, cioè quello del massimo lusso, mi danno pure l'iPhone, è il contratto migliore del mondo, tutte le chiamate gratis in Italia, in Europa, i messaggi illimitati, vi messaggerò tutte le notti. 38 euro al mese, fate 38 per 12, quanto fa? Meno di 500. Perché devo tenermi 3.000 euro di telefono se ne spendo 500? 2.500 euro per te lo vittorio. Grazie. Buon senso. Taxi, puri taxi. Io non ho preso un taxi in questo mese e mezzo. Vengo in bicicletta e col motorino, quindi questi soldi li do allo Stato. Questi esempi positivi nostri. Poi ci sarà uno che dal Trentino viene, ha tre figli e chiaramente si affitta una casa e non se la può neanche prendere a città vecchia. Se la deve prendere magari a pratica e quindi spende 1.800 euro con tre stanze per i figli e che questo è una persona non etica, assolutamente no, viene da lei, viene da... Eppure è vero che nel vostro Statuto però questa cosa di rimborsi non è scritta. Non è scritta chiaramente. Cioè quando voi avete firmato e vi siete ganchiati, era scritto noi rinunciamo a metà dei 5.000 euro e mentre tutti... E l'assegno è firmandato. Non dovete dire, perché saranno centinaia di migliaia di euro, non dovete dire. Fini ha preso di assegno di fine mandato 300 milioni di euro. E noi una legislazione solo a 40.000 euro magari sono 40.000 euro a testa. Fai 40.000 euro per 163. Fini ha ragione. Ma non date pure i 10.000 al mese. Non sto dicendo che Fini dopo 30 anni. Però comunque quando date l'informazione, date la giusta. Cioè metà indennità più assegno di fine mandato. Però dico nel vostro statuto voi eravate scritto che i 5.000 euro erano solo i 5.000, no? Mentre il resto... Ecco perché dico che ha creato anche questa cosa. Un misandere esempio, non regole. Adesso l'abbiamo chiarito. Perché tutto il resto c'era scritto che i rimborsi spese invece erano, diciamo, vostri. Questo se si legge, io l'ho letto così l'altro un po'. Però c'è scritto un po'. Quindi l'hai letto da altri giornalisti? Nel senso, oggi siamo qua a dirlo. No, non arriva a quale giornalista. Allora, noi ci siamo impegnati con la campagna elettorale, con tutti questi cittadini che ci conoscono personalmente, a fare determinate cose e queste facciamo. E gradiremmo che questo esempio virtuoso passasse in televisione. Ma la roga di Filipe Rusconi! Una promessa! Una promessa! Una promessa! Che va a fare la stessa domanda a tutti quelli che hanno passato il formato di riduzione dei costi della politica. No, no, no. Però adesso abbiamo risposto compiutamente. E' una promessa che con la stessa insistenza vai a fare la stessa domanda. Una bella insistenza. Una bella insistenza. Perché voi avete diritto alla seconda, alla terza e alla quarta domanda. Ma a questo tempo lo dedichi. E noi qua ci stiamo a rispondere alla terza e alla quarta domanda. Non so se Gasparri alla seconda domanda non già sta via con quattro della scorta. E poi fai gestanti alla forza. Noi stiamo qua in mezzo alla gente. Vieni tu, rispondiamo 20 minuti. Tu giustamente incalzi perché il tuo lavoro è barrispettato. Il lavoro è barrispettato. Il giornalista. Ma ci sono argomenti più importanti. Però una bella puntata sull'MPS quando ce la fa, Flores. Ecco, bravo.